Buongiorno a tutti, sono Davide Barbetta, responsabile del marketing operativo della Clepachi e vi presento le novità che la nostra azienda ha portato all'emissione di quest'anno del Pro Light & Sound. Innanzitutto la star Sharpie Wash, voi sicuramente conoscete tutti lo Sharpie che è il prodotto il Be Moving Light che due anni fa ha rivoluzionato un attimino il concetto di illuminazione professionale per lo spettacolo, è stato usato in tantissimi concerti, tour e soprattutto in grandissimi eventi di rilevanza internazionale e Sharpie Wash è un prodotto che prende parte del nome del nostro rivoluzionario Sharpie perché ha delle caratteristiche che sono in comune, ad esempio la compattezza, è molto leggero, pesa solo 19 kg ed ha dei movimenti molto rapidi e ovviamente un Wash Light con lampada a scarca da 330 W che però fa un'illuminazione pari a quella di un Wash Light tradizionale da 1000 W. Diciamo che può avere una attinenza con lo Sharpie anche perché laddove finisce l'apertura angolare dello Sharpie che arriva al massimo a 6 gradi, un Sharpie Wash allarga da 6 gradi fino a 48 gradi, ha un range dello zoom con una proporzione molto ampia, 1 a 8 ed è ideale ad essere utilizzato in combinazione con B-Moving Light anche perché le dimensioni sono le stesse, i pesi sono molto simili e quindi su un rig vanno perfettamente appicchiati. Questa è la nostra showroom, come vedete c'è anche un piano rialzato da cui poter vedere perfettamente le demo show che si ripetono ogni ora, quasi come se fosse un po' in un cinema, ci sono anche tutti i divanetti. Tra i protagonisti delle nostre demo c'è Aleda, Aleda è il corpo mobile LED lanciato l'anno scorso e che quest'anno sta entrando sul mercato in modo molto deciso. È molto apprezzato per questa caratteristica di poter comandare i singoli LED, i singoli pixel LED autonomamente, individualmente. Hai la possibilità quindi di creare dei giochi di luce, creare delle macro anche personalizzabili per cui fai dei giochi molto fantasiosi, creabili che sono molto utili per il lighting designer sia a livello artistico sia perché gli facilitano il lavoro, praticamente avendo dei giochi già preimpostati. Solo tra l'altro anche ci stanno dicendo, ci stanno confermando i lighting designer dei giochi molto creati e molto interessanti. Grazie a tutti.